un giorno il piccolo claudio giocava sotto il portone e sulla strada passò un bel vecchio con gli occhiali d'oro che camminava curvo appoggiandosi a un bastone e proprio davanti al portone il bastone gli cadde claudio fu pronto a raccoglierlo e lo porse al vecchio che sorrise disse grazie ma non mi serve posso camminare benissimo senza se ti piace tienilo e senza aspettare risposta si allontanò e pareva meno curvo di prima claudio rimase lì col bastone fra le mani e non sapeva che farne era un comune bastone di legno col manico ricurvo il puntale di ferro né niente altro di speciale da notare claudio picchiò due o tre volte il puntale per terra poi quasi senza pensarci inforco il bastone ed ecco che non era più un bastone ma un cavallo un meraviglioso puledro nero con una stella bianca in fronte che si slanciò al galoppo intorno al cortile nitrendo e facendo sprizzare scintille dai ciottoli quando claudio meravigliato e un po spaventato riuscì a rimettere il piede a terra il bastone era di nuovo un bastone e non aveva zoccoli ma un semplice puntale arrugginito né criniera ma il solito manico ricurvo voglio riprovare decise claudio quando ebbe ripreso fiato inforco di nuovo il bastone e stavolta non fu un cavallo ma un solenne cammello a due gobbe e il coltire era un immenso deserto da attraversare ma claudio non aveva paura e scrutava in lontananza per vedere comparire l'oasi è certamente un bastone fatato si disse claudio inforcandolo per la terza volta adesso era un'automobile da corsa tutta rossa con il numero scritto in bianco sul cofano e il cortile una pista rombante e claudio arrivava sempre primo al traguardo poi il bastone fu un motoscafo e il cortile un lago dalle acque calme e verdi e poi un'austronave che fendeva lo spazio lasciandosi dietro una scia di stelle ogni volta che claudio rimetteva il piede a terra il bastone riprendeva il suo pacifico aspetto il manico lucido il vecchio puntale il pomeriggio passo veloce tra quei giochi verso sera claudio si riaffacciò per caso sulla strada ed ecco di ritorno il vecchio dagli occhiali d'oro claudio lo osservò con curiosità ma non poteva vedere in lui niente di speciale era un vecchio signore qualunque un po affaticato dalla passeggiata ti piace il bastone e gli domandò sorridendo a claudio claudio credette che lo rivolesse indietro e glielo tesi arrossendo ma il vecchio fece cenno di no tienilo tienilo disse che cosa me ne faccio ormai di un bastone tu ci puoi volare io potrei soltanto appoggiarmi mi appoggerò al muro e sarà lo stesso e se ne andò sorridendo perché non c'è persona più felice al mondo del vecchio che può regalare qualcosa a un bambino